Noi da anni sosteniamo che Roma rischia di entrare nel terzo mondo, questa immagine metaforica oggi è realtà, con l'esplosione dei casi di tubercolosi che hanno riempito le pagine nei nostri giornali negli ultimi tempi, noi siamo in piena emergenza sanitaria, ma la cosa non è casuale, noi sostenevamo già da tempo che nei campi Rom c'è un'emergenza sanitaria, la Croce Rossa italiana pochi mesi fa ha mandato dei segnali d'allarme dicendo che era necessaria una profilassi immediata per questi motivi, non sono stati ascoltati come non eravamo stati ascoltati noi, adesso abbiamo la tubercolosi a Roma, oltretutto il fatto ridicolo e drammatico che lo stesso Ministro abbia annunciato di essere lui stesso affetto da questa malattia, ci fa capire che il livello di diffusione del morbo è purtroppo gravissimo, noi pensiamo che sempre ci sia una soluzione, la soluzione immediata è quella della chiusura di tutti i campi Rom, di rispedire questi individui nei loro paesi d'origine e di iniziare una profilassi costante, continua in tutte le scuole, gli ospedali per sradicare nuovamente quella che è diventata purtroppo una rinnovata, triste realtà nella città di Roma. Facci largo siamo noi a sorridere al tuo sogno